Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro G90 Gamer, rieccoci qui oggi con Cernobilit, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, siamo a Cernobil, giorno 1, siamo ancora di mattina e se vi ricordate bene noi avevamo già iniziato quantomeno ad allestire la nostra base, devo ricominciare da capo però non ho capito il perché, carica l'ultimo salvataggio, vediamo un attimino. Un'altra cosa ragazzi, ho messo la webcam in verticale, vediamo un attimino se vi va bene, no, giorno 1 Cernobil mattina, ok dunque allora iniziamo quantomeno a togliere tutti quanti questi detriti, almeno così ci portiamo avanti, riprendiamo completamente la zona, questo questo, Questo qui anche e mi sa che c'era anche sotto qui da poter pulire, apri, aspettate dopo andiamo a dare un'occhiata là dentro, questo qui anche e mi sa che c'era anche sopra da ripulire, mi sa di sì, no, B per iniziare la ricostruzione della base, dunque aspettate un po' una cosa, io il bancone eccetera vorrei metterlo quantomeno qua, Dunque vediamo un po', lo posso mettere qui, sì, qui lo posso piazzare, ok, questo qui l'abbiamo messo, tab per uscire, d'accordo, ora aspettate perché qui ci stava una porta da aprire, dunque vediamo un attimino, ah ok, qua ci sono già dei letti, proietture, esegui. Dovrebbe essere Tatiana, che prepara del tè, oddio, è una donna reale, maronne. Ok, va bene, va bene, spegni per adesso, ora vediamo un po' Ariadna, e quindi che cos'è che devo fare? Non si sa, va bene, ok, dunque dobbiamo salire sopra, parlare con Oliver. Degli che Tatiana non può aspettare, sì. No, no, non, non so, 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 non so. Vedete questa piña dietro con me? Possiamo usare il per uscire il nostro plan di action, scoprire come entrare dentro del plan di potere e trovare quali che hai chiesti, o qualsiasi. Tutti, tutti i conti, tutti i conti di risultati, ciò che si documenta in, qui. Ricordati chi è che comanda. Dunque, abbiamo un revolverino in mano, tavola del corpo, vai al corpo. Allora, vediamo un po'. Dunque, il colpo, il piano che delinea ogni passo necessario per entrare nella centrale elettrica e salvare Tatiana. Questo è l'obiettivo finale, devo essere preparato alle perfezioni per avere una possibilità di successo. Preparazione, membri squadra, ce ne vogliono altri quattro, perché siamo in due. Strumenti acquisiti, 0 di 5. Indagini condotte, 0 di 5. Selezioni il colpo. Inizia il colpo, esci. Allora, aspettando... Dunque, assegna la missione, vediamo un attimino. Ora, ogni giorno comincia con una pianificazione. Scegli la missione di cui occuparti personalmente e quale affidare a Oliver. Scegli con cura, non puoi completare più di una missione al giorno. Ok. Dunque, la percentuale vicina al nome di Oliver mostra le sue possibilità di portare a termine la missione. La percentuale di successo varia in base agli obiettivi. Il risultato dipenderà anche dalla sua salute e dal suo morale. Indicati dalle icone negli angoli del suo ritratto, che sarebbero queste qui, Igor e Oliver al 100%, dalle sue abilità innate e dal suo equipaggiamento. Scegli una missione che tu e Oliver intraprenderete. Oggi, selezionandola e premendo F o facendo clic con il tasto sinistro del mouse, ricordati che ogni missione ha uno scopo diverso e si svolge in un luogo diverso. Le missioni si dividono in varie categorie, ti permettono di trovare cibo, munizioni e medicine. Occhio di mosca, foresta rossa. Porto di Pripyat, copaci. Centro di Pripyat, resta alla base. Giorno rimasti 1, 2, 1, 2, 1. Scorta di munizioni. La assegniamo ad Oliver. Foresta rossa, cibo. La prendo io. Quando sei pronto premi invio per iniziare una missione. Ricorda che le missioni difficili non devono necessariamente finire bene. Sia tu che i tuoi compagni potreste essere feriti, rapiti o addirittura uccisi, ma ricorda che si può morire anche di fame. Ok. Puoi iniziare la missione? Sì. Giorno 1, foresta rossa, pomeriggio. Noi dobbiamo cercare del cibo. Salvataggio in corso. Quando sei fuori dalla tua base nella zona, puoi costruire una serie di cose completamente differenti. Premi B per iniziare a costruire. Ricorda che per costruire devi fare rumore e la zona è un luogo pericoloso. Quando sei pronto, usa TAB per uscire dalla modalità costruisci e tornare alle tue missioni e all'esplorazione di Cernobil. Trappole, mine e armi che sparano automaticamente i nemici. Grasse... Grasse risate. Vabbè. Dunque. Entra. Vediamo un po' che roba è questo qua. Parti meccaniche. Fuochi d'artificio. Descrizione. Dei petardi collegati ad un timer elettronico. Non faranno male a nessuno, ma dopo 10 secondi attireranno l'attenzione di tutti con un forte rumore. Ok. Dunque. Dobbiamo cercare del cibo. Allora. Iniziamo. Raccogli. Raccogli. Cosa è soltanto questa qui? Però io non posso andare né avanti né indietro. Dunque. Allora. Aspettate un po' una roba. Ok. Ok. Ma vaffan club. Mannaccia la miseria oh. Mi ci sono spaventato. E tanto pure. Dobbiamo cercare quantomeno di trovare del cibo. Allora. Qui vedo che in tal caso non posso passare perché è recintata. Però aspettate. Mappa. Ingrandisci. Rimpicciolisci. Però aspettate un po' una roba perché io devo andare a visitare credo tutte quante queste zone. rifornimento di cibo. Eccolo qua. Ora. Ora. ah eccola ah ok sono dei punti che ci fanno arrivare in tal caso da lì da quello che sto capendo e poi dopo possiamo arrivare alla zona del cibo allora aspettate facciamo così altro, ricerca vediamo un po' che cos'è che riusciamo a trovare se magari riusciamo a trovare un bel po' di risorse cosa? aiuto? per quale logico motivo? mmm c'è quel quadro che non cosa? perchè un soldato vuol essere aiutato? oddio cacchio questa roba qua? ma se mi avvicino mi fa male sarò il prossimo? capperi mannaggia dunque allora se io vado no aspetta posso arrivare più o meno qui adesso cavolo sta foresta rossa però è molto molto immensa molto grossa oddio che roba è quella questa verde? eeeh non lo so sapete che non lo so? mi sa che devo andare per ma è uno vivo? potrebbe essere di sì che sarà uno vivo? no è morto ah ah benissimo ci stanno avvisando che di qua ce ne dobbiamo andare perchè no hai raggiunto un nuovo livello hai un punto abilità a disposizione parla con i compagni alla base eeeh dicevo ci stanno a dire che di qua ce ne dobbiamo andare perchè non la riusciremo a trovare né mai né mai da quello che ho capito eeeh mi sa proprio di sì anzi ci avvertono ci avvertono proprio di questa cosa qui scusa giovane riesce a prendermi questa grazie eeeh dell'erba dunque noi siamo arrivati qua però abbiamo ancora un altro segnalino qua vediamo un po' cerchiamo di arrivarci la strada potrebbe essere questa qui sì infatti perchè devo andare di qua e poi girare di qua a destra per poi dopo proseguire oh cacchio eeeh com'è che ci faccio ad arrivare adesso maledizione li devo aggirare in qualche modo cacchio c'è che qui voglio dire da lontano come cavolo è che mi fai annotare se me ne vado infrascato infrascato non dovrebbero quantomeno peccarmi cavolo volete vedere che è giusto sulla strada è giusto qua eh canticchia una melodia ma che cavolo il generatore di portali crea un wormhole che ci permetterà che ci trasporta fino al nostro rifugio e muori cacchio fan club l'avevo beccato in testa ma niente da fare stai bene ah uno stalker è un azzardo ma forse sa qualcosa chiedi di tatiana chiedi un compenso ok abbiamo che cosa kit medico razione di cibo per 5 oddio maronne dunque ricaricami questo qua ah ecco allora che cos'è che era il punto interrogativo si era l'uomo da salvare in pratica ora noi abbiamo ancora altre tre zone da visitare e possiamo anche andare adesso noi qua cerchiamo sempre di trovare cose dunque stazione non è che forse magari ci sia qualcuno aspettate eh dunque raccogli raccogli e sta roba qua che roba è oddio oddio abbiamo fatto anche questo sì sono semplicemente delle informazioni che ci stanno dando oh la la munizioni per revolver ottimo buongiorno scusate un indizio può anche darsi che ti possa dire di Tatiana sì perché l'unico scopo di sto ragazzo è quello di trovare la sua fidanzata e sì dobbiamo cercarla subito c'è subito poi e dobbiamo cercarla vediamo un po' qua dentro qua che c'è cavolo è chiuso perché come ci faccio ad entrare ah ok perfetto e vediamo un po' qua forse sono dall'altro lato eh sì infatti uno sta qua scassina per superare questo passaggio hai bisogno di un oggetto ben preciso prova a crearlo presso un banco di produzione cavolo parti meccaniche ora questo qua anche l'abbiamo fatto però la strada ci porta fin qua sotto cavolo perché vado sempre ultra veloce in questi giochi ecco la ecco la ah perfetto un soldato un soldato e un liquidatore credo che hai raggiunto un nuovo livello per l'addestramento ok dicevo un soldato e un liquidatore hanno ammazzato un cane perché poi dopo con le radiazioni si sarebbe convertito eh mannaggia mannaggia mannaggetta ste cacchio di radiazioni raga e dunque io credo che qua ho fatto compagni devo arrivare qua a 140 metri si può fare dunque aspettate perché vedo un po' di robe qua che roba è oh e dai ok dunque ci segnala veramente tanto il treno il treno è raggiungibile posso salirci a bordo si a quanto pare si vediamo un po' se troviamo qualche cosa le radiazioni qui non sono tante eh già credevo che fossero tante ma intanto no che cosa succede? eh non lo so cioè che poi voglio capire che cos'è questa scia verde qua secondo me aspettate ma che cacchio vabbè noi comunque sia dobbiamo arrivare qua a questo campo cavolo e che cacchio ti aveva vista a te ma che canticchia e canticchia quanti ce ne sono peraltro uno o dieci miliardi cacchio altro che canticchia una melodia questo scusi giovane eh state zitto buonina cuccia eccolo qui ciao ciao ok oddio qua è pieno di roba questo missione compiuta rifornimento di cibo oddio si va vabbè cavolo l'hai disi hai portato a termine alla tua prima missione quando sei pronto usa il generatore di portali nel tuo inventario per tornare al rifugio ok però aspettate perché mi sa che qua ci potrebbe essere ancora qualche altra cosa all'interno c'è io voglio cercare di capire no in questo gioco ci sta ah eccolo ci sta uno che stava sorvegliando su questo lato mentre un altro che sorveglia da quel lato ah ok merda ora si spiegano tante cose aspetta e che cavolo che non passi no a quanto pare no lui non gli piace passare di qua e vabbè mannaggia mannaggetta e vabbè dai e allora e allora ditelo dove stiamo ah eccolo ciao ciccio mi dispiace per te ma ti devo ammazzare cavolo però questi tizi hanno veramente una quantità spaventosa di risorse e vorrei cercare quantomeno di entrare qua dentro e fare mannbassa il livello delle radiazioni non è quanto 25 vabbè non sono tantissime 22 23 però com'è che facciate entrare qua cacchio com'è che posso entrare c'è qualche entrata secondaria sì sì perché mi sa che qua dentro qua ci dovrebbe essere un bel po' di roba eh no qua ritorno di nuovo dove ero prima va bene come come faccio ad entrare qua ah ecco scassina no non posso entrare allora dai su dunque facciamo così Quindi, come si è arrivato? Sei più vicino a trovare la tua vecchia? Tu ancora vuoi tornare a la planta di potenza? Ho dovuto tornare! Ho la più forte sentenza che lei è qui! Sentenza? Ti sorrisi a me, professore Kimonyuk. Trattare le vostre instinti è importante. Ma la prima volta che abbiamo provato, abbiamo perduto Anton. Ne abbiamo bisogno di un'evità prima di andare in questa strada di nuovo. Non preoccuparti, Olivier. Non sono più scopi. Io continuo a cercare la città, e quando ho avuto, possiamo formulari un nuovo plan. Bene. Città, plan, informazioni, risorse. Tutti che ci sono più vicino, Igor. Come si è arrivato? Perciò che ci sono un po' di più. Prima, per te racconto un po' di cose. Quasi? Sì. potrebbero anche perdere te anche, in situazioni in cui le risorse sono scariche c'è una psicologia gruppa giocando favoriti, giocando quelli che sbagli e non apprezzando i ragazzi che hanno preso il peso sono ragazze di creare discordi tra i ragazzi quattro ragazzi? ci sono solo due di noi per ora, ma questo deve cambiare se vuoi fare la operazione di power plant per succedere abbiamo bisogno di più potere più intel, più skilli e più corpi e tutti questi corpi potrebbero bisogno di spazio, alimentare e risorse in questa base io lo so che sei sicuro per andare fuori e continuare la sua scuola, ma bisogna essere patienti planare, strategizzare prendersi lentamente hai bisogno di trovare tempo per accettare le necessità dei compagni e mangiare questo servizio se non, tutti i vostri plani saranno per nulla ti conviene ok, perfetto ci vuoi dare dei consigli eccetera dunque allora missione compiuta rifornimento di cibo ogni giorno tutti i compagni invieranno un rapporto sulle missioni assegnate saprai se le se le loro missioni hanno avuto successo e cosa sono riuscito a trovare tutti gli oggetti acquisiti saranno automaticamente aggiunti al nostro inventario quando sei pronto a procedere premi F ricompensa malato instabile scorta di munizioni occhio di mosca rifornimento di cibo fallimento ecco lui ha fallito dunque allora razioni di cibo immagazzino prodotto Igor rifornimento di cibo foresta rossa effetti dunque allora Igor Oliver niente cibo niente cibo stessa razione di Igor vuoi terminare la distribuzione del cibo si ora vediamo un po' se ho fatto tutto quanto correttamente nelle ore serali puoi costruire nuove strutture per la tua base ad estrarti con i tuoi compagni usa liberamente i materiali e i punti abilità che hai ottenuto ah ok perfetto ottimo dunque signori dunque arrivato a questo punto io direi quasi quasi di completare qui questo nuovo appuntamento della serie di cernobilit mi raccomando spolliciate commentate iscrivetevi attivate la campanellina condividete questo video per poter aiutare il canale a crescere e noi ci si becca molto presto in un nuovo video un saluto a tutti da G90 Gamer